La melodia delle parole presenta La fiera della vanità di William H. Tackeray Capitolo 6 Voxol Mi rendo perfettamente conto che per ora sto intonando una canzoncina piuttosto leggera, ma faranno seguito capitoli terribili. Però devo pregare il gentile lettore di rammentarsi che fino a questo momento mi sono limitato a descrivere la famiglia di un agente di cambio residente in Russell Square. I componenti della quale vanno a spasso, vanno a pranzo, vanno a cena, essi vogliono bene, né più né meno di come accade nella vita di ciascuno di noi. Cioè senza che nessun avvenimento patetico o fuori dell'ordinario conferisca una luce particolare ai loro amori. Le cose, pertanto, stanno in questi termini. Osborne, innamorato di Amelia, ha invitato un vecchio amico a cena e ad unirsi a loro per una gita a Voxol. Quanto a Joss Sedley, ormai ama Rebecca. Riuscirà a farne la sua sposa? Ecco per il momento la questione più importante. Gli stessi avvenimenti avrebbero potuto essere raccontati in chiave aristocratica, romantica oppure comica. Se, poniamo, avessimo spostato l'azione in Grosvenor Square, proponendo gli stessi casi tali e quali, ebbene non avremmo trovato un nostro pubblico. Per esempio, chi mi avrebbe impedito di riferire in quali circostanze Lord Joseph Sedley si fosse innamorato, e come il Marchese di Osborne si fosse invaguito di Lady Amelia, col pieno consenso del duca, il di lei nobile genitore. Oppure, anziché attingere i miei personaggi all'alta società, avrei potuto sceglierli fra la gente del popolo, e descrivere quanto avveniva nella cucina di Mr Sedley. Dire che il negro sambo era innamorato della cuoca, il che d'altronde era vero, e raccontare che per causa sua si era preso a cazzotti col cocchiere. Come lo sguattero fosse stato colto in flagrante, mentre rubava un cosciotto di montone freddo, e come la nuova femme de chambre di Mr Sedley rifiutasse di andare a letto se non le veniva accordata una candela di cera. Non è difficile descrivere fatti del genere in termini atti a suscitare le più fragorose risate, e si può spacciarli per una raffigurazione realistica della vita. Se invece avessi voluto indulgere ai toni truculenti, e alla nuova femme de chambre avessi assegnato come amante un ladro matricolato, il quale fa irruzione con la sua genga, uccide Sambo sotto gli occhi del padrone, rapisce Amelia in camicia da notte e non la lascia più libera sino al terzo volume, forse avrei scritto una storia raccapricciante e del più vivo interesse, densa di capitoli procacciatori di brividi che il lettore avrebbe affannosamente divorato. Ma i miei lettori si disilludano. Questa è una storia semplice, scevra da elementi così romanzeschi. Si accontentino dunque di un capitolo nel quale si parla di Vauxhall. Un capitolo così breve che a stento e fatica merita di essere qualificato come tale, e che tuttavia è un capitolo, molto importante per Giunta. Del resto non esistono forse nella vita di tutti noi dei capitoli di breve durata che sembrano privi d'importanza e invece esercitano un peso determinante sulla nostra sorte. Pertanto saliamo in carrozza insieme con tutto il gruppo di Russell Square e andiamocene ai giardini. Joss e Miss Sharp hanno preso posto sui sedili anteriori e sono piuttosto pigiati. Quanto a Mr. Osborne siede di fronte tra Amelia e il capitano Dobbin. I personaggi che siedono in carrozza sono affatto persuasi che, in serata, Joss chiederà a Rebecca di diventare Mrs. Sedley. Quanto ai genitori di costui, rimasti a casa, si sono assuefatti a questa ipotesi, sebbene, detto fra noi, il vecchio Sedley provasse nei confronti del figlio un sentimento molto affine al disprezzo. Diceva che era Vanesio, egoista, pelandrone, effemminato. Trovava i sasperanti quelle sue arie di uomo alla moda e rideva a crepapelle delle fandonie che raccontava. Gli lascerò metà delle mie sostanze, diceva, tanto più che ne avrà da vendere del suo, ma siccome non dubito che se io, te e sua sorella ce ne andassimo all'altro mondo domani stesso, lui direbbe mio Dio, per poi pranzare con l'appetito di tutti i giorni. Non ho la minima intenzione di prendermela per lui. Sposi chi gli pare, la cosa non mi interessa. Invece Amelia, ed era naturale in una ragazza prudente e dotata di un indole come la sua, era semplicemente entusiasta di quel matrimonio. Un paio di volte Joss aveva lasciato capire di volerle dire qualcosa di molto importante, qualcosa che lei era disposta di buon grado ad ascoltare. Ma il pingue giovanottone non si decideva, non riusciva a liberarsi del suo grande segreto. Tra la più viva delusione di sua sorella era riuscito soltanto a liberarsi di un gran sospiro e se n'era andato per i fatti suoi. Questo mistero contribuiva a mantenere il tenero cuore di Amelia in uno statuo di perpetuo subbuglio. Quando non parlava con Rebecca di quel delicato argomento, si abbandonava a lunghe e riservatissime conversazioni con Mrs. Blackinsop, la governante, la quale ne faceva cenno alla cameriera, la quale, forse, ne riferiva vagamente alla cuoca, la quale, non ne ho il minimo dubbio, raccontava la faccenda a tutti i fornitori del quartiere. Per cui nella zona di Russell Square non erano poche, ormai, le persone che parlavano del matrimonio di Mr. Joss. Inutile dire come Mrs. Sadley fosse convinta che suo figlio, sposando la figlia di un pittore, commettesse una mesalliance. Ma buon Dio, signora, commentava Mrs. Blackinsop, voi venivate da una famiglia di droghieri quando vi siete maritata con Mr. Sadley, e lui era soltanto l'impiegato di un agente di cambio. Fra tutti e due avevate sì e no 500 sterline, mentre adesso potete considerarvi abbastanza ricchi. Amelia era perfettamente d'accordo con lei, e alla fine anche la conciliante Mrs. Sadley finì con il far sua questa opinione. Quanto a Mr. Sadley, non aveva un parere personale. Sposi chi crede, continuava a ripetere. Non è affar mio. Questa ragazza non ha un centesimo, ma non ne aveva nemmeno Mrs. Sadley. È intelligente, mi sembra di buon carattere, e forse saprà come farlo filar dritto. Sempre meglio lei, cara mia, che una Mrs. Sadley dalla pelle nera e una dozzina di nipotini color mogano. Dunque tutto sembrava ridere al futuro di Rebecca, la quale con assoluta naturalezza si appoggiò al braccio di Joseph per andare a cena e sedette accanto a lui a cassetta nella carrozza aperta. E che figura faceva il nostro, guidando la pariglia tutto tronfio e borrioso? Nessuno parlava delle sue nozze, ma tutti le davano ormai per cosa fatta. Mancava soltanto una dichiarazione esplicita, e in tal senso Rebecca in quel momento sentì dolorosamente la mancanza di una madre trepida e affettuosa, che in dieci minuti avrebbe sistemato ogni cosa. Sarebbero bastate poche parole a quattro occhi per strappare la confessione decisiva dalle timide labbra del giovanotto. La situazione, dunque, si prospettava in questi termini, mentre la carrozza percorreva il ponte di Westminster. Giunsero ai Royal Gardens, e quando il pomposo Joss scese dal cigolante veicolo, la folla accolse con uno scroscio di applausi il grasso signore, il quale si fece rosso e s'avviò, enorme, imponente, al braccio di Rebecca. Per parte sua, com'è naturale, George si occupò di Amelia, che aveva l'aspetto radioso di un alberello di rosa illuminato dal sole. Dobbin, disse George, ti spiacerebbe occuparti tu degli scialli e del resto? Da bravo su via! Così, mentre lui si allontanava al braccio di Amelia, e Joss cercava di rimpicciolirsi il più possibile per riuscire a passare attraverso il cancello al fianco di Rebecca, il buon Dobbin dovette accontentarsi di dare il braccio agli scialli e di pagare all'ingresso per tutto il gruppo. Dopodiché timidamente guidò i suoi passi dietro la comitiva. Non voleva essere di disturbo. Del resto non gli importava un bel niente di Rebecca e di Joss, ma in quanto ad Amelia la riteneva persino all'altezza del portentoso George Osborne, e quando vide l'avvenente coppia avviarsi lungo i viali, Amelia era allo zenith della felicità e del più incantato stupore, indugiò in contemplazione di quella visione di gioia tutta naturale, con una sorta di compiacimento paterno. Forse provava il desiderio di portarsi anche lui qualcuno a braccetto, invece degli scialli, tanto più che la gente scoppiava a ridere nel vedere quel giovane ufficiale goffamente onusto di indumenti femminili. Ma William Dobbin era per abitudine incurante di se stesso. Il suo amico si divertiva, dunque anche lui non poteva che sentirsi appagato e soddisfatto. La verità è che il capitano Dobbin non prestò la benché minima attenzione a tutto quanto lo circondava. Non agli incantevoli giardini, non alle centomila lampade perennemente accese, non ai violinisti in tricorno che eseguivano melodie di sogno sotto il padiglione dorato al centro dei giardini, non ai cantanti di ballate comiche o sentimentali che giungevano grate all'orecchio degli astanti. Non alle danze campestri, intrecciate da agili popolani che saltellavano e battevano i piedi ridendo. Non al segnale che annunciava come Madame Saki si accingesse a salire su una fune che arrivava alle stelle. Non all'eremita che sedeva nel suo eremitaggio sempre illuminato. Non ai viali immersi nella penombra che invitavano le coppie di innamorati ai loro teneri e segreti colloqui. Non ai boccali di birra serviti da camerieri in vecchie livree mal ridotte. Non ai padiglioni festosi di luci dove la folla banchettava in allegria, fingendo di mangiare fettine di prosciutto pressoché invisibili. Insomma, non ebbe occhio per nessuna di queste cose, né per il gentilissimo mister Simpson, quel dolce sorridente imbecille che, se non erro, fin da allora dirigeva il luogo in questione. Si aggirava tirandosi appresso il biancoscialle di Amelia, e dopo aver ascoltato sotto il padiglione dorato la battaglia di Borodino, una cantata guerresca contro l'avventuriero Corso che proprio in quei giorni aveva subito quella grave sconfitta sul suolo di Russia, eseguita dalla Salmon, Dobbin si allontanò provando a canterellarne il motivo, ma ad un certo punto si accorse che stava ripetendo il ritornello che aveva udito cantare da Amelia, mentre lei scendeva le scale prima di cena. Al che scoppiò a ridere. Rideva di se stesso, dal momento che, a dire il vero, la sua voce non era certo più gradevole di quella di un gufo. È del tutto naturale che i nostri giovani, spartiti in coppie come erano, dopo essersi solennemente promessi di non lasciarsi per tutto il corso della serata, si separassero nel giro di una decina di minuti. Finisce sempre così a Vauxhall. Le coppie immancabilmente si lasciano, per ritrovarsi di bel nuovo all'ora di cena e raccontarsi a vicenda le avventure reciprocamente vissute in quel lasso di tempo. Quali furono le avventure di Miss Amelia e Mr. Osborne? È un segreto. Tuttavia di una cosa possiamo esser certi. Furono assolutamente felici e si comportarono nel modo più corretto. Da 15 anni ormai stavano insieme ogni qual volta lo volevano, cosicché il loro tette a tette non offriva alcun sapore di novità. Ma allorché Miss Rebecca e il suo corpulento cavaliere si persero nei meandri di un viale solitario, ove vagavano non più di un centinaio di coppie smarrite al pari di loro, entrambi compresero come il momento fosse oltremodo critico e spinoso, e Miss Sharp pensò che in quel frangente, o mai più, sarebbe maturata la dichiarazione che già tremava sulle timide labbra di Mr. Sedley. Già si erano recati a contemplare il panorama di Mosca, e lì un villanzone aveva pestato i piedi a Miss Sharp, costringendola a lasciarsi cadere fra le braccia di Mr. Sedley. Ora quell'incidente da nulla era valso non di meno ad accrescere la tenerezza e la fiducia del signore in questione, tanto da indurlo a raccontarle, forse per la sesta volta, un buon numero dei suoi aneddoti indiani. «Come mi piacerebbe vedere l'India?» disse Rebecca. «Vi piacerebbe, davvero?» chiese Joseph, con tenerezza veramente indicibile, e stava per proseguire in quell'abile interrogatorio. Sbuffava e ansimava appunto tale che la mano di Rebecca, posata vicino al suo cuore, poteva captarne ogni febbrile pulsazione. Quando, accidenti, ecco suonare la campanella, che annunciava l'inizio dei fuochi d'artificio. Ne seguì un gran correre, una gran confusione, e questa interessante coppia di innamorati fu indotta a seguire la corrente della folla. Il capitano Dobbin aveva pensato di riunirsi agli altri per la cena. Dal momento, che è a dire la verità, i divertimenti di Vauxhall non lo interessavano molto. Due volte venne a passare davanti al piccolo padiglione, dove le due coppie si erano riunite, ma nessuno gli badò. La tavola era imbandita per quattro, le coppie erano impegnate in allegri conversari, e Dobbin comprese di essere stato completamente dimenticato, come se non fosse mai apparso sulla faccia della terra. Decisamente sarei di troppo, pensò malincognicamente il capitano. Tanto vale che vada a fare due chiacchiere con l'eremita. S'allontanò dal brusio della ressa, dal baccano, dal rumore di piatti e di posate del banchetto, e imboccò il buio sentiero in fondo al quale viveva il ben noto solitario di cartapesta. Beh, non si può dire che sia stato un vero spasso per Dobbin. Io stesso so per esperienza personale che quando non si è in compagnia, Vauxhall è uno dei posti più deprimenti e desolati del mondo. Frattanto, le due coppie erano perfettamente a loro agio nel piccolo padiglione, dove si stava svolgendo una conversazione oltre in modo intima e divertente. Pienamente e pomposamente consapevole del proprio ruolo, Joss, in tono solenne, dava ordini ai camerieri. Fu lui a condire l'insalata, a sturare la bottiglia di champagne, a scalcare il pollo, oltre a mangiare e a bere gran parte di quanto era posato sulla tavola. Alla fine volle a tutti i costi che si ordinasse una coppa di rackpunch. A Vauxhall tutti bevevano il rackpunch. Cameriere del rackpunch. Alle origini della storia che stiamo raccontando figura una coppa di rackpunch. E perché il rackpunch non dovrebbe rivestire l'importante funzione che può assumere qualsiasi altra cosa? Non fu una coppa di acido prussico a provocare la morte della bella Rosmunda? E non fu una coppa di vino a causare quella di Alessandro Magno? O perlomeno non è quanto asserisce il dottor Lemprier? Ebbene, parimenti, avvenne che la coppa di punch esercitasse un ruolo determinante sul destino dei principali personaggi di questo romanzo senza eroe. Influì sulla vita di tutti e quattro, sebbene tre di loro non ne avessero tracannato nemmeno un sorso. Le signore non lo assaggiarono, ad Osborne non piaceva. Di conseguenza, Joss, quel pingue gourmand, beve l'intero contenuto della coppa, col risultato di manifestare una vivacità che da principio risultò sorprendente e poi divenne né più nemmeno penosa. Prese infatti a chiacchierare a voce alta e a ridere in modo così fragoroso da radunare davanti al padiglione un capannello di almeno venti persone, mentre l'innocente comitiva, quivi raccolta, si trovava al colmo dell'imbarazzo. Poi volle a tutti i costi intonare una canzone, cosa che fece in quel tono stridulo e miagolante che caratterizza la voce delle persone in stato di ubriachezza. Per poco non calamitò sul posto l'uditore, raccolto davanti al padiglione dorato della musica, e la sua esibizione venne salutata dagli scroscianti battimani dei presenti. «Bravo ciccione!» gridò un tale. «Ancora, ancora, Daniel Lambert!» gridò un altro. «Guardate, guardate, hai il fisico ideale per ballare sulla corda!» commentò un altro buon tempone, suscitando la costernazione delle due signorine e un violento impeto di collera in Mr. Osborne. «Per l'amor del cielo, Joss, alziamoci e andiamocene!» esclamò il giovanotto, mentre le signorine si alzavano in piedi. «Fermati, tesoruccio, coccolina mia!» gridò Joss. E, fattosi audace come un leone, afferrò Rebecca per la vita. Rebecca fece l'atto di andarsene, ma non le riuscì di staccare da sé la mano di Joseph. Fuori, gli scrosci di risa raddoppiarono, mentre Joss continuava a bere, a cantare, a profondersi in goffe galanterie. Strizzava l'occhio al pubblico e, ondeggiando vezzosamente il suo bicchiere, esortava tutti a bere del punch insieme a lui. Mr. Osborne si accingeva a fare appugni con un tizio che indossava un paio di vistosi stivali e sembrava incline ad approfittare di una simile occasione. Ormai sembrava impossibile che la situazione non degenerasse in un grave incidente, quando l'amico Dobbin, che fino a quel momento aveva passeggiato su e giù per i giardini, si avvicinò al padiglione. «Via di qua, imbecilli!» prese a strillare, respingendo a spallate gran parte della folla, che, nel vedere il suo cappello a tricorno e il suo aspetto alquanto truce, non tardò un istante a darsela a gambe. Poi, tutto sconvolto, entrò nel padiglione. «Mio Dio, Dobbin, dove diamine eri andato a finire!» chiese Osborne, e afferrò lo scialle bianco al peso al braccio dell'amico per posarlo sulle spalle di Amelia. «Renditi utile e occupati di Joss, mentre io riaccompagno le signore alla carrozza». Joss si alzò in piedi per palesare la sua contrarietà, ma bastò una piccola spinta delle dita di Osborne per rispedirlo a bofonchiare sulla sua sedia, cosicché il tenente ebbe modo di portare in salvo Amelia e Miss Rebecca. Mentre queste si allontanavano, Joss mandò loro un bacio con le dita, mentre esclamava in una sorta di singulto «Benedetta, benedetta voi!». Poi, afferrata la mano del capitano Dobbin e singhiozzando da straziare l'anima, gli confidò il segreto del suo amore. Adorava la ragazza che proprio in quel momento si era allontanata. Era certo che il suo contegno le avesse spezzato il cuore. L'avrebbe sposata l'indomani mattina nella chiesa di St. George, in Hannover Square. Per giove avrebbe fatto uscire l'arcivescovo di Canterbury da Lambert Palace e l'avrebbe costretto a tenersi pronto alla cerimonia. Astutamente, il capitano Dobbin lo indusse a lasciare senza indugio i giardini, per recarsi immantinenti a Lambert Palace. Dopodiché, superati i cancelli, non incontrò difficoltà a hissare Mr. Joseph Sandley su una carrozza pubblica e a scaricarlo sano e salvo a casa sua. A sua volta, George Osborne condusse a casa sane e salve le due ragazze. Poi, quando la porta venne richiusa dietro di loro ed egli presi ad attraversare Russell Square, si abbandonò ad un tale accesso di larità che la guardia notturna lo squadrò, interdetta. Nel salire le scale, Amelia ebbe per l'amica uno sguardo colmo di tristezza. Poi la baciò e andò a corricarsi senza aggiungere una sola parola. Non può non dichiararsi domani, pensava Rebecca. Per ben quattro volte mi ha chiamata, amore dell'anima mia. Mi ha stretto forte le mani sotto gli occhi di Amelia. Sì, domani si dichiarerà. Del resto, anche Amelia ne era sicura. E forse si arrischiò perfino a pensare all'abito che avrebbe indossato nella sua qualità di damigella d'onore, nonché ai regali che avrebbe fatto alla sua diletta cognatina. Poi il suo pensiero corse ad un'altra cerimonia, nel corso della quale sarebbe spettato a lei il ruolo primario. E così via. Ah, ingenue fanciulle! Davvero non conoscete gli effetti del rank punch? Il rank nel punch è una bazzecola in confronto al rank in testa la mattina dopo. E questa è la pura verità, ve lo posso garantire. Non esiste un mal di testa più feroce di quello provocato dal rank punch di Vauxhall. Sono passati vent'anni da quando ne ho bevuto due bicchieri, e mi ricordo ancora delle conseguenze, parola di gentiluomo. Immaginatevi Joseph Sandley, che era malato di fegato e aveva mandato giù almeno due pinte di quella spaventevole mistura. L'indomani mattina, che secondo la convinzione di Rebecca avrebbe dovuto segnare l'inizio della sua lieta sorte, trovò il povero Sadley gemebondo e in preda a torture che la mia penna si rifiuta di descrivere. L'acqua di soda non era stata ancora inventata. Lo crediate o no, la birra chiara era l'unica bevanda con la quale gli sventurati bevitori riuscivano in qualche modo a placare l'arsura causata dalle soverchie libagioni della sera innanzi. George Osborne trovò appunto l'ex ricevitore di Bogley Walla con un bicchiere di quel beverone davanti a sé. Il poveraccio gemeva seduto su un divano, mentre Dobbin, che già si trovava sul posto, si occupava bonariamente del suo infermo, come già aveva fatto la sera prima. I due ufficiali contemplavano quel bacco sfiancato dai suoi eccessi e sogghignavano guardandosi con la coda dell'occhio. Persino il carriere personale di Sedley, un uomo dall'aspetto solenne e impassibile, muto e grave come un impresario di pompe funebri, faticava a trattenere le risa quando posava lo sguardo sul suo disgraziato padrone. Mister Sedley era furibondo ieri sera, signore. Una cosa veramente inconsueta. Voleva, niente meno, prendere a pugni il vetturino. Il capitano è stato costrato a portarlo di sopra in braccio, come un lattante. E nel proferire queste parole, un vago sorriso affiorò sfilineamenti di Mr. Brush, che peraltro si ricompose subito, ritrovando la sua calma insondabile, mentre apriva la porta del salone e annunziava, Mr. Osbin. Come va Sedley? chiese il giovane, dopo aver gettato un'occhiata alla sua vittima. Niente ossa rotte, da basso c'è un vetturino con un occhio pesto e la testa fasciata, che vuole denunciarti ad ogni costo. Come sarebbe a dire denunciarti? chiese Sedley con un fil di voce. Tu l'hai picchiato la notte scorsa, vero, Dobbin? Gliene hai date un sacco, caro mio. Sembravi molinò. La guardia notturna ha dichiarato di non aver mai visto nessuno crollare a terra stesso a quel modo. Chiedi pure a Dobbin, se non mi credi. Sì, sì, hai combattuto un vero e proprio round col vetturino, confermò Dobbin. E ce l'hai messa tutta, anche. E quel tale in giacca bianca a Vauxhall? Come l'ha fatto correre, Joss? E le donne, che strilli! Confesso che questo spettacolo mi ha fatto veramente piacere. Credevo che voi altri borghesi non sapeste nemmeno dove sta di casa il coraggio. Ad ogni modo, per parte mia sarò attento a schivarvi, Joss, quando avete bevuto. Eh, quando voglio so essere terribile, rispose Joss dal suo sofà con voce flebile. E nel dir questo fece una smorfia così contrita e al tempo stesso così ridicola che persino il capitano, sempre così compunto, non poté trattenersi e sbottò in una fragorosa, incontenibile risata. Osborne aveva il coltello per il manico e voleva approfittarne senza pietà. Non aveva smesso di pensare all'eventualità di quel matrimonio tra Joss e Rebecca. E l'idea che un membro nella famiglia della quale lui, George Osborne, del reggimento, sarebbe entrato quale parte integrante della medesima, commettesse una mese a Lyons con una ragazzuccia da quattro soldi, con un'istitutrice, con un'intrigante, non gli garbava affatto. Tu avresti picchiato qualcuno? Tu, povero vecchiardo? Ma figuriamoci! Disse dunque Osborne. Tu, terribile, ma se non ce la facevi nemmeno a reggerti sulle gambe. Ai giardini stavi quasi per piangere, e intorno la gente sghignazzava. Mi agolavi, Joss, proprio così. Hai cantato addirittura una canzone. Te ne ricordi, sì o no? Cosa? Domandò Joss. Dico se ti ricordi di aver cantato una canzone sentimentale, e di aver chiamato Rosa, cioè volevo dire Rebecca, o come diavolo si chiama, quell'amica di Amelia, tesoruccio cocchina mia. Dopodiché quel perfido giovanotto afferrò Dobbin per una mano, e rifece la scena, tra l'inorridito sconcerto dell'autentico protagonista, e adonta delle suppliche del buon Dobbin che lo pregava di avere pietà. Perché dovrei avere pietà? rispose Osborne all'amico che lo rimproverava, quando ebbero lasciato il malato affidandolo alle cure del dottor Gollop. Ma si può sapere quale diritto ha di fare tanto il gradasso, e di mettersi alla berlina a Vauxhall? E chi è quella scolaretta che gli fa le moine? Per Dio, la famiglia è già di bassa estrazione, se poi ci si intrufo la Costei. Non ho niente da dire sul conto delle istitutrici, però come cognata preferisco avere una signora. Sono uomo di larghe vedute, però ho una dignità da difendere, e so perfettamente quale sia la mia condizione. Quindi è opportuno che anche lei sia consapevole della sua. Dunque aspetta a me far intendere le cose a quel nababbo ciccione, e impedirgli di comportarsi da cretino più di quanto lo sia di natura. Per questo gli ho detto di stare in guardia, perché lei potrebbe anche vendicarsi. Può darsi che tu abbia ragione, rispose Dobbin perplesso. Tu sei sempre stato un tori, e la tua famiglia è una delle più antiche d'Inghilterra. Però va a trovare le ragazze e fa la corte a Miss Sharp, propose il tenente interrompendo Dobbin. Ma quest'ultimo non si disse disposto ad accompagnarlo nelle sue visite quotidiane alle signorine di Russell Square. George, che da Holborn scendeva a lungo Solton Row, scoppiò a ridere, quando vide che due teste erano affacciate a spiare la strada dal primo e dal secondo piano di casa Sedley. Sul balcone del salotto, Amelia guardava ansiosamente nella direzione opposta, dove abitava Osborne, smaniosa di vederlo arrivare, e Miss Sharp, dalla sua stanza al secondo piano, se ne stava allerta, speranzosa di vedere apparire la grossa sagoma di Joseph Sedley. «Sorella Anna è sulla torre di vedetta», disse Osborne ad Amelia, e tra mille risate le descrisse nel modo più comico le condizioni deplorevoli in cui versava suo fratello, divertendosi moltissimo del proprio racconto. «Siete cattivo a riderne così, George», disse Amelia, al colmo della desolazione. Ma la sua espressione così afflitta e non fece che accentuare le risate di Osborne, convinto com'era che la situazione fosse quanto mai divertente. E quando poi comparve Miss Sharp, non desistette dal proprio atteggiamento. Anzi, la prese in giro, sottolineando l'effetto che il suo fascino aveva esercitato su quel ciccione di Joss. «Ah, Miss Sharp, se l'aveste veduto stamani, avvolto in una vestaglia a fiori, mentre si lamentava e si torceva sul sofà. Se l'aveste veduto, nell'atto di tirar fuori la lingua, per farla vedere al dottor Golop». «Chi avrei dovuto vedere?» «Chi? Come sarebbe a dire chi? Ma il capitano Dobbin, naturalmente, per il quale, fra parentesi, abbiamo avuto tante premure ieri sera. Al contrario, siamo stati tutti molto scortesi con lui», disse Amy, arrostendo vivamente. «Io, io mi ero letteralmente dimenticata di lui». «Ma è logico», rispose Osborne, che non smetteva di ridere. «Non si può passare la vita ad occuparsi del capitano Dobbin, né vero, Amelia, né vero, Miss Sharp. Tranne quando ha rovesciato quel bicchiere di vino sulla tavola», disse Miss Sharp in tono altezzoso e sto spingendo il capo all'indietro. «Ho semplicemente ignorato l'esistenza del capitano Dobbin. Non mi sono accorta di lui un solo momento». «Perfetto, Miss Sharp. Non mancherò di dirglielo», disse Osborne. E mentre parlava, Miss Sharp sentiva nascere in lei un sentimento di odio e di diffidenza per il giovane ufficiale, che quest'ultimo non pensava nemmeno lontanamente di aver suscitato. «Ho il sospetto che costui voglia burlarsi di me», pensava Rebecca. «Chissà, magari ha riso di me anche con Joseph. E se lo avesse spaventato, forse non si farà più vedere». Le si annebbiò la vista e il cuore prese a pulsarle all'impazzata. «Voi mi prendete sempre in giro», disse Rebecca sforzandosi di sorridere, con tutto il candore possibile. «E va bene, scherzate pure, Mr. George. Io non ho nessuno che possa prendere le mie difese». Dopodiché se ne andò, e mentre Amelia gli rivolgeva un tacito rimprovero, da gentiluomo qual era, Osborne provò un tenue palpito di rimorso per aver usato un'inutile sgarberia a quella fanciulla indifesa. «Vedete, cara Amelia», disse. «Voi siete troppo buona, troppo gentile. Non conoscete il mondo. Io sì, invece. E Miss Sharp, la vostra piccola amica, deve imparare a comportarsi come le si conviene». «Non credete che Joss voglia...» «Non ne so nulla, mia cara, ve lo giuro. Forse sì e forse no. Non sono il suo padrone, io. So soltanto che è molto sciocco, molto vanesio, e che ieri sera ha messo il mio tesoruccio in una situazione quanto mai sgradevole e imbarazzante. Il mio tesoruccio, la cocchina mia». E di nuovo scoppiò a ridere, ma in modo così comico che anche Amy si unì alla sua risata. Per tutta la giornata Joss non si fece vivo. Ma Amelia non se ne diede pensiero. Le venne l'idea di mandare il ragazzo, il piccolo aiutante di Sambo, a casa di Joseph per sollecitare un libro che lui le aveva promesso e per chiedere notizie. Mr. Brush, il cameriere di Joseph, fece sapere a titolo di risposta che il suo padrone era a letto ammalato e che poco prima il dottore si era recato a visitarlo. «Verrà domani», pensò Amelia, ma non ebbe il coraggio di farne parola con Rebecca. Del resto, nemmeno Rebecca fece la minima allusione a Joseph per tutto il giorno successivo alla serata di Vauxhall. Tuttavia l'indomani, mentre le signorine sedevano sul divano fingendo di lavorare, di scrivere lettere o di leggere un romanzo, Sambo entrò nel salotto col suo solito sorriso accattivante. Recava un involto sottobraccio e un biglietto posato su un vassoio. «Un biglietto da Mr. Joss, signorina», disse Sambo. Come tremava Amelia mentre lo apriva. Il biglietto diceva «Cara Amelia, ti mando the Orphan of the Forest. Ieri non sono potuto venire, stavo troppo male. Oggi parto per centelam. Ti prego, se puoi, di scusarmi presso l'amabile Miss Sharp per il mio comportamento a Vauxhall. Supplicala di concedermi il suo perdono e di voler dimenticare le parole che in un momento di eccitazione in consulta posso aver pronunciato durante quella cena fatale. Non appena sarò guarito, la mia salute ha subito una grave scossa, me ne andrò in Scozia per qualche mese. Tuo devotissimo Joss Sedley». Era la sentenza di morte, la fine di tutto. Amelia non osò posare lo sguardo sul volto pallidissimo e sugli occhi brucianti di Rebecca, ma lasciò cadere la lettera in grembo all'amica, si alzò e salì in camera sua, dove diede libero sfogo al suo dolore e alla sua delusione. Mrs. Blankisop, la governante, accorse a consolarla. Amelia si abbandonò singhiozzando sulla sua spalla e ben presto si sentirà consolata. «Non affliggetevi così, signorina», le disse. «Avrei preferito non dirvelo, ma credetemi, dopo i primi giorni quella ragazza non è piaciuta più a nessuno. L'ho sorpresa io in persona mentre leggeva le lettere di vostra madre. La Pinner continua a ripetere che fruga nel vostro stipo, nei vostri cassetti e nei cassetti di tutti noi. È sicura, dice, che ha cacciato il vostro nastro bianco dentro la sua valigia?» «Sono stata io a darglielo, sono stata io!» Ma queste parole non valsero a mutare l'opinione di Mrs. Blankisop su Mrs. Sharp. «Quelle istitutrici non mi vanno giù, Pinner», disse alla cameriera. «Si danno arie e tono da gran signore, ma alla resa dei conti hanno un salario come voi e me, e non è certo migliore». Ormai, fatta eccezione per la povera Amelia, tutti in casa erano convinti che la partenza di Rebecca era una realtà necessaria e inevitabile, e sia i servitori, sia i padroni, esclusa Amelia, concordavano nel pensare che dovesse andarsene il più presto possibile. La nostra brava bambina fece man bassa nei suoi cassetti e armadi, saccheggiò le scatole in cui teneva i sigilli, passò in rassegna i vestiti, gli scialli, i fermagli, le reticelle, i pizzi, le calze di seta ed ogni cianfrusaglia di cui disponeva, e fece una selezione di effetti personali che mise in disparte per farne dono a Rebecca. Poi andò dal suo papà, che era un commerciante inglese davvero generoso, aveva promesso di darle tante guinee quanti erano i suoi anni, e lo supplicò di regalare quel denaro alla povera Rebecca, che ne aveva tanto bisogno, mentre lei non mancava di nulla. Riuscì persino a estorcere un'elargizione a George Osborne, e niente affatto irrisoria, dal momento che il giovanotto era forse l'ufficiale più scialacuone di tutto l'esercito. George si recò in Bond Street, e vi acquistò il più grazioso cappello e la più bella casacchina che si potesse comprarvi a suon di palanche. Questo è un regalo che ti manda George, cara Rebecca, disse Amelia, tutta fiera dell'elegante scatola che conteneva quei doni. Ha veramente un gusto eccezionale, non ne esiste un altro come lui. Proprio così, rispose Rebecca, ed io gli sono profondamente grata. Ma tra sé e sé, pensava, è stato George Osborne a mandare a monte il mio matrimonio. Quindi non ci è difficile immaginare quali fossero i veri sentimenti che provava per lui. Serena, rassegnata, si preparò alla partenza, e accettò tutti i doni della gentile Amelia, non senza mostrare dapprima quel minimo di esitazione e di riluttanza imposto dalle regole della buona educazione. Naturalmente esternò la sua eterna gratitudine a Mrs. Sadley, ma senza insistere troppo. La brava signora era imbarazzatissima, ed era evidente che cercava in tutti i modi di evitarla. Quando Mr. Sadley le regalò la borsa, gli baciò la mano, e trovò accenti di tale commozione quando gli chiese il permesso di considerarlo, d'ora in poi, il suo amico e protettore, che gli fu sul punto di sottoscriverle un assegno per altre venti sterline. Ma si trattenne in tempo. Doveva prender parte ad una cena, la carrozza lo attendeva, e si affrettò a congedarsi. Dio vi benedica, mia cara! Quando verrete a Londra, troverete la nostra casa sempre pronta ad accogliervi, alla Mansion House James. Alla fine giunse il momento di separarsi da Amelia, e su questo quadro preferisco stendere un velo. Mi limitò a riferire che, dopo una scena nel corso della quale ci fu chi faceva sul serio e chi recitava perfettamente la sua parte, dopo che le più affettuose carezze, le lacrime più sconsolate, la bottiglia del sale volatile e alcuni dei migliori sentimenti di cui è capace il cuore umano ebbero svolto la loro singola funzione, Rebecca ed Amelia si lasciarono, mentre la prima giurava che avrebbe amato l'amica per sempre. Per sempre.